Grazie a tutti. Questa scuola, la 55esima in Italia, si propone di analizzare, studiare e diffondere in Calabria i principi del liberalismo classico, fornendo ai partecipanti nuovi strumenti culturali utili per l'interpretazione delle dinamiche sociali e una conoscenza dei criteri che regolano il mercato. Ad intervenire tra gli altri all'inaugurazione è Enrico Morbelli, direttore della scuola, Lorenzo Iannello, Florindo Rubettino, Alberto Escergo. Potrà avere successo questa scuola in Calabria? Sandro Scoppa, coordinatore delle lezioni. Noi speriamo di sì, perché la Calabria sotto questo aspetto si trova molto indietro, quindi potrebbe darsi che sia un'iniziativa che possa dare i suoi frutti. Del resto lo possiamo riscontrare dalle iscrizioni che per questa scuola, alla prima edizione, abbiamo già 150 iscritti. Ad inaugurare questa scuola non poteva che essere un calabrese di Gioia Tauro, Lorenzo Infantino, docente alla LUIS di filosofia delle scienze sociali. Che immagine ha della Calabria? Credo che oggi la Calabria si debba porre di fronte ai problemi in maniera diversa da come si poneva 40 anni fa, perché viviamo all'interno di un grande processo di globalizzazione ed è giusto che anche qui si realizzino iniziative come quella della scuola di liberalismo, perché sono necessarie per la formazione culturale dei giovani, perché sono le idee quelle che ci fanno camminare, sono le idee quelle che promuovono lo sviluppo e la crescita delle popolazioni. Siamo allo sport, occhi puntati sul Milan in casa.